Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime! Tutto bene, a belli da casa! A belli quelli che stanno a casa! Come state? Vi piace il mio step up? C'è la mia nuova maschera? Dite che basta? No, scherzi a parte ragazzi, oggi sono a casa, non perché ci hanno costretto a rimanere a casa, ma perché non è nemmeno una bella giornata e poi non sto in formissima, perché comunque inizio a accusare anch'io un po', perché casa non è enorme, perché la paura che ci chiedono dentro anche a noi esiste, è piccola casa, il frigo è così, tipo frigo bar, quindi, o me mangio gigia, no, non lo so, tanta pasta, olio, sale, tanta acqua, parmigiano e basta! Speriamo di sopravvivere, anche perché qui a New York, anche se molti sono già scappati negli Hamptons, quelli che i sordi sono nati via nelle loro mega ville, qui ragazzi non è che ci pensano tanto a noi, quindi un po' di ansia ce l'ho, Gigia lascia stare la super cosa, se Gigia si vuole mettere la maschera, che hai? E niente ragazzi, la situazione sta diventando un po' critica, mo' pure Johnson e Trump, la situazione è un po' fuori controllo, e grazie al cavolo, e grazie al cavolo, cari fratelli americani e fratelli inglesi, e mo' sono vostri, mi sto auto-bippando, no ragazzi, poi ieri c'è stato, c'è stato l'ispezione a Via della Pace, non penso purtroppo che Via della Pace tornerà lì, non penso che riusciremo a ritornare lì, quindi molti ricordi ieri, e poi per quanto riguarda la colpa, ragazzi, la colpa non si sa ancora precisamente, ciao Anna Collà, noi la volemo a Collà, però la cosa principale e fondamentale è che non si tratta di una mancanza, né da parte nostra di Via della Pace, che ne so, una cosa non pulita, una cosa non rivisionata, quello che prepara a voi, e purtroppo non è stata nemmeno colpa del palazzo, dice purtroppo, no, perché al momento, dato che era successo, se almeno si piava una colpa, noi, tracchete, stracchete, e invece no, quindi diciamo che abbiamo pareggiato, diciamo che abbiamo pareggiato 1 a 1, e abbiamo preso palo interno, palo palo, qualcuno si ricorda questa cosa? qualcuno dei tifosi la lascia, si ricorda la finale di Coppa Italia a palo palo, speriamo poi di non perdere i supplementari, perché magari fino adesso abbiamo giocato benissimo, io e Marco, però magari non abbiamo le riserve giuste, però non molliamo, oggi vi sto un po' ammorbando, perdonate, ah regà, scrivetevi al canale, io me lo scordo sempre, che tanto puoi, comunque vedo pure che le visualizzazioni si stanno abbassando, non vi vorrei ammorbare proprio, non vi vorrei dare fastidio, non vi vorrei infastidire, però io lo voglio fare soprattutto per farvi un po' di compagnia, domani, se questa sera non cambiano le idee, cioè che ci aiutano dentro casa, io volevo portare a Central Park, anche perché Central Park dovrebbe essere una bella giornata, però far ride una cosa, che l'altro ieri Trump aveva detto, non vi potete vedere in più di 70, poi dopo 3 ore, famo 50, poi dopo 4 ore, vabbè però 25, già iniziano ad essere un po' troppi, poi ieri sera, ma ho massimo in 10, massimo in 10, eh G, massimo in quanti? 10! è vero son fame, non lo so ragazzi, speriamo che, vabbè a me con Gigi mi lasciano, e te ti mangio, e ti faccio ingrassare come Hansel e Gretel, ti ingrassano e poi mi ti mangio, comunque regà, vai va, regà, vi voglio bene, domani speriamo che, sto un po' più carico, ci devo provare, ci devo riuscire soprattutto per voi, vi voglio bene, ah forse in questi giorni farò, conoscetemi su Instagram, il mio Instagram è MyDomo, magari inizierò a fare delle live insieme a voi, 3 minuti a tempo, comunque vabbè, regà, ricordatevi una cosa, comunque, lo sapete no? adesso se ne stanno a accorgere tutti, comunque ricordatevi una cosa, che noi siamo italiani, noi sì, sì noi, noi siamo italiani, noi siamo quelli che stanno a manna avanti, una nazione anche da dietro a una maschera, un paio d'occhiali, quindi è un paio di quanti, quindi ricordatevi che noi siamo italiani, all'altri, gli piacerebbe,